Nel Padovano la campagna di vaccinazione contro l'influenza si concluderà il 24 gennaio, ma si va ormai verso la distribuzione di tutte le dosi messe a disposizione dall'Uss6 e Uganea, ovvero 180.000, una cifra record con 10.000 dosi in più rispetto al 2018. Abbiamo distribuito 10.000 dosi in più rispetto agli anni precedenti perché abbiamo avuto un'aumentata richiesta da parte dei medici di medicina generale ma anche proprio della popolazione. Quindi sta andando bene perché abbiamo l'impressione che la gente si stia vaccinando di più. Altissimo anche il numero di sedi in cui è possibile vaccinarsi, 596 medici di famiglia, 67 pediatri, 20 distretti e tutte le case di riposo. Il picco è previsto per fine gennaio, primi di febbraio, finora in Veneto. Sono state costrette a letto dall'influenza quasi 91.000 persone, di cui 17.000 sono padovani. Eppure rispetto al 2018, quando a Padova ci furono anche 11 morti, finora nessun caso grave è stato registrato. A consuntivo l'anno scorso abbiamo avuto 253 ricoveri, con 40 casi gravi e 11 morti. A oggi, in piena epidemia influenzale, anche se il picco arriverà a fine gennaio, primi di febbraio, devo dire che non si è registrato a oggi nessun caso di ricovero, nessun caso grave. Fondamentale rispettare le regole di igiene, sembra impossibile, eppure, tra tanti consigli e norme di comportamento, la più efficace è anche quella di gran lunga più semplice e più veloce da adottare. La pratica più importante e riconosciuta è proprio il lavaggio delle mani. Quando uno ha l'influenza e si tocca il naso, si tocca la bocca, si tocca gli occhi, poi deve pulire le mani. Grazie a tutti.